Sparivano continuamente farmaci, ma anche pannolini, ammuchina, guanti, rotoli di carta, per un danno alla ASL di 100.000 euro. E dal 2014, secondo quanto accertato, che nei depositi dell'ospedale Perrino di Brindisi si registravano continui ammanchi di materiale sanitario. Ora in quattro saranno giudicati con rito abbreviato, mentre altre sei persone sono state rinviate a giudizio al termine di un'idienza preliminare che si è svolta a Brindisi su casi di sparizione di farmaci all'interno dell'ospedale. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del NAS di Taranto e riguardano 10 dipendenti della Sanità Service, società partecipata dall'ASL, che si è costituita parte civile dopo aver avviato le pratiche di licenziamento dei lavoratori. Nell'ambito della stessa inchiesta, il PM Valeria Farina Valaori ha firmato 13 avvisi di fine indagine e chiesto l'archiviazione per tutte le altre persone che figuravano nell'elenco dei 46 indagati a carico dei quali erano state eseguite perquisizioni. La denuncia è stata formalizzata dall'ASL lo scorso febbraio. Dalle indagini è emerso anche che c'era chi timbrava il cartellino per conto di altri dipendenti, proprio quel personale ausiliario che, dopo aver compiuto il furto, si assentava da lavoro, forse, per assicurarsi il bottino.